Allora, quindi rimpasto, patrimoniale ce l'ha spiegato. Se volete rovinare il Babbo Natale parlando di rimpasto. Beh, sì, di qualche ministro quantomeno. C'è rimasto solo Babbo Natale. E patrimoniale niente. Patrimoniale? Condono? Niente. No. Condono? Niente. Niente. C'è niente di tutte le cose che vi interessa un po'. E sullo sci, qualche regione del nord si lamenta. Ragazzi, dobbiamo tornare a fare una cosa che chiamiamo fare, ma in sicurezza. Farle senza rispettare la salute, la sanità, la necessità di difendere la vita non ha senso. Faremo tutto quello che si può fare nei limiti del possibile. Grazie. Ciao, grazie. Grazie.